Ciao a tutti amici di YouTube, io sono Travatar91, come vedete nuova recensione a tema horror, oddio il fin di cui si parla oggi è più un thriller, però essendo un thriller a tinte horror direi che ci sta. In questo periodo ironicamente il vero horror non è al cinema ma è diciamo dalle parti dell'est Europa, questo però non è un canale che parla di politica, si dice sempre no, guarda lì l'influencer che non sa nulla di politica, che si metta a parlare di robe che non conosce, non voglio essere una di quelle persone, quindi in questo canale si cerca di distrarsi un po' dallo schifo che c'è fuori parlando appunto di altro. Quindi, per l'appunto non perdiamo altro tempo, lo state leggendo dal titolo, oggi si parla di un film che era atteso al varco con una bella strizzina nelle mutande a dir poco, ovvero Occhiali Neri e perché? Beh lo saprete già, perché questo è l'ultimo film, almeno per ora non si sa se ne farà altri ma staremo a vedere, ma per adesso è l'ultimo film diretto da Dario Argento, un regista che nel panorama del cinema italiano, in particolare in quell'horror, non ha grand che visione di presentazioni, perché tra gli anni 70, 80, anche qualcosina anni 90, è stato un maestro del genere, ha prodotto alcune delle più famose pellicole a tema horror slash thriller, horror ne ha fatti solo un paio, la maggior parte dei suoi film sono sempre stati thriller con pesanti tinte horror, e i film di cui parliamo oggi tra l'altro non fa eccezione. Tra parentesi, per chi volesse recuperare un po' di suoi film, ce ne sono un po' sia su Disney Plus che su Amazon. Iniziamo innanzitutto a dire una cosa, prima di passare al film in sé, perché ho bisogno di fare una piccola introduzione. Se voi andate in giro e sentite qualcuno che parla di Dario Argento, tendenzialmente si tende a parlare del suo cinema in tre tronconi, diciamo così. Il primo è quello che va dal suo esordio fino a un suo certo film, adesso ci arriviamo, ed è sostanzialmente quello che è considerato il suo periodo d'oro, quello in cui, non sbagliava un colpo, tirava fuori film o bellissimi, o alla peggio comunque buoni, che si facevano tranquillamente vedere. Questo periodo è iniziato con il suo primo film, appunto, che ho qui in DVD, L'uccello dalle piume di cristallo, questo bellissimo thriller appunto a tinte horror, la cui particolarità era che il caso qui non veniva risolto tramite deduzioni in stile Poirot, per restare in tema di cose che abbiamo trattato recentemente, comunque insomma con il detective che deduce tutto mettendo insieme i vari pezzi, ma col fatto che c'era un protagonista che assisteva a una certa cosa, c'era lì dentro un indizio visivo per risolvere il tutto, ma questo veniva colto, veniva svelato soltanto alla fine del film. Una cosa molto interessante come idea, tanto che poi Dario Argento l'ha sviluppata. C'è stato poi il film successivo, Il Gatto a Nove Code, che è carino ma di questo periodo è uno dei meno riusciti, infatti io non ce l'ho nella mia collezione. Ho invece il film successivo, ovvero Quattro Mosche di Velluto Grigio, questo ce l'ho in Blu-ray, anche questo non è un capolavoro, ma l'artwork della Cichigori era bellissimo, quindi l'ho preso lo stesso. Comunque è meglio del Gatto a Nove Code. E questa è un po' la trilogia degli animali, perché appunto i titoli qui, Uccello, Gatto, Mosche. Doveva poi uscire un quarto film intitolato La Tigra delle Denti a Sciabola, che poi è stato rinominato in Profondo Rosso, considerato uno dei suoi capolavori. Ho qui questa edizione che ho trovato al Bloodbuster di Milano, non è italiana, ma tanto la lingua italiana dentro c'è. Il suo capolavoro però per me rimane Suspiria, è il mio horror italiano preferito che ho in due edizioni, Blu-ray e DVD usato, però veramente figa, qui c'è anche un secondo rischio di contenuti extra che ora non si trova più. Ha fatto poi il seguito di Suspiria, ovvero Inferno, un film completamente anarchico, con una sceneggiatura completamente fuori di testa. Non che le altre, vabbè, ci arriviamo. Abbiamo poi anche Tenebre, anche questo bellissimo, poco nominato, ma ve lo consiglio assolutamente. E il film che chiude questo periodo, ovvero Fenomena, film fantastico, qui con un tono molto fiabesco e con una giovane Jennifer Connelly, veramente uno splendore, sia perché era sempre stata molto bella come attrice, sia anche proprio perché era molto brava. Questo era un po' il periodo d'oro, in mezzo andrebbe anche infilato il suo unico film storico, ovvero Le Cinque Giornate di Milano, che racconta appunto delle cinque giornate in cui a Milano, nel XIX secolo, si combatte per l'indipendenza dall'Austria. film solitamente attuale, vista una certa cosa, ma vabbè, facciamo stare quello. Quello tra l'altro mi manca. È l'unico film di questo periodo che non ho mai visto. Ora, dopo questa prima fase, si è passati alla sua fase intermedia, in cui aveva degli alti e bassi. Da qui in poi non li ho visti tutti, non ho visto solo qualcuno qua e là, però appunto sento pareri contrastanti rispetto ai film di questo periodo. Periodo iniziato con Trauma, quello l'ho visto, carino però effettivamente, è un Dario Argento, cioè nel senso, ti presento quando il regista diceva, vabbè, si ha fatto il film così di mestiere, carino, ma niente di che. Poi è stato quando Dario Argento ha iniziato a far recitare nei propri film Sua figlia Asia, che non è precisamente la miglior attrice del mondo. Ok, poi il periodo è andato avanti con Alterne Fortune, fino a Non ho sonno. Questo l'ho visto, alti e bassi però non è del tutto da buttare. In mezzo c'è stato il film Opera, di cui ho sentito, non ho visto, ho sentito parlarne bene, ma dicono che il finale sia brutto. La sindrome di Stendhal, anche lì c'è chi dice parte bene, poi si arena un po'. La sua versione del Fantasma dell'Opera, che prima o poi dovrò guardare, perché ne tratterò nella Monsters Legacy, ma dalle premesse che ho sentito, mi sto cacando sotto. e mi pare che fossero questi. Adesso non me ne vengono in mente altri di sto periodo. E poi arriviamo al periodo successivo, il periodo sostanzialmente del post 2000. Ha fatto quattro film, più questo, in questo periodo. Di quei quattro film ne ho visti due, che sono Il suo Dracula, e anche quello tornato nella Monsters Legacy, e oh mio Dio, e Il Cartaio. Mio Dio Il Cartaio. Mi è già capitato di citarlo qualche volta? Io non posso credere che il regista di Suspiria abbia fatto quello schifo in mondo. Una delle cose più brutte che esistano. In mezzo ci sono stati anche la terza madre giallo, di cui ho sentito solo parlare male. Ho anche visto i trailer, ok che non si chiuse confide i trailer, ma diciamo che non sono proprio dei biglietti da visita quei trailer. Mio Dio. Se non avete visto un po' di... se vi mancano delle cose di reggimento, in particolare il periodo bello, ho visto che in streaming si può trovare un bel po' di roba. Su Disney+, sì ovviamente nella sezione Star, troviamo Profondo Rosso e Vai, quindi lì assolutamente fiondatevi a vederlo se mi manca, e un po' di film del suo periodo sfortunato. C'è il suo Fantasma dell'Opera, c'è Non ho Sonno, la Sindrome di Stendhal, la terza madre appunto, che mi manca, aiuto, e per l'appunto Il Cartaio. Oh, se volete farvi del male, non so, c'è un momento in cui volete punirvi perché avete fatto qualcosa di brutto, e guardate Il Cartaio, va bene, perfetto. Su Amazon Prime video è una situazione un po' interessante perché abbiamo i film che vi ho appena detto però a pagamento, ci sono anche Trauma e 4 mosche di velluto grigio sempre a pagamento, cioè a noleggio, Idem per Tenebre e Fenomena, mentre invece sono gratis L'Uccello delle Piume di Cristallo, Il Gatto a Nove Code, di nuovo Tenebre e Fenomena, boh, saranno due versioni diverse, non l'ho mai capita bene sta cosa, non l'ho controllato, Suspiria, prima assolutamente da recuperare, e Giallo, anche qui, se vogliamo punire, se un giorno sentirò di dovermi punire, mi guarderò Giallo qua. Quindi insomma, in streaming Dario Argento è piuttosto recuperabile, anche se appunto molti dei suoi film su Amazon dovete noleggiarli. Mi spiace per questo preambolone, però era necessario, adesso vi spiegherò perché. Allora, Dracula era del 2012, per dieci anni bui assoluto, e adesso appunto si è uscito con questo film, chiamato Chialiniera, era già stato annunciato da qualche tempo, non mi ricordo se l'aveva annunciato già prima della pandemia Covid, o poco dopo, comunque insomma è un film che era nel cassetto da un po'. Il trailer, non era il più bel trailer del mondo, ma prometteva comunque un argento più sanguinario rispetto ad esempio al cartaio che era nemico da fare schifo, e insomma, forse, forse era la volta che Dario Argento si riprendeva un po' dopo gli ultimi disastri terrificanti che aveva combinato. Quindi appunto lo sono andato a vedere, e di cosa parla questo Chialinieri? La trama è proprio Argento vecchio stile, che più vecchio stile non si può. C'è un serial killer che sta uccidendo delle prostitute, e già qui che è in mente se la filmografia di Argento cominciano a venire fuori dei iechi. E abbiamo la nostra protagonista, interpretata dall'attrice Ilenia Pastorelli, la coprotagonista femminile di Lo Chiamavano G. Grobo, ovvero Diana, che è appunto questa prostituta, che dopo essere uscita da un albergo, dopo aver fatto dei servizi a un cliente, viene inseguita da un furgone, il furgone cerca appunto di buttarla fuoristrada, perché appunto dentro c'è questo serial killer che ha già fatto fuori tre prostitute, lei sarebbe la quarta, lei cerca ovviamente di sfuggirgli e nel farlo ha un incidente stradale in cui viene coinvolta un'altra macchina con dentro un uomo e una donna cinesi e il loro bambino e cosa succede? I due genitori muoiono, il bambino si salva, lei, mentre invece Diana sopravvive, ma rimane cieca. Infatti gli occhiali neri del titolo altro non sono che gli occhiali da non vedente che lei dovrà portare da quel momento in poi per il resto della sua vita. vediamo per una prima parte del film lei che cerca di adattarsi a questa sua nuova condizione anche con l'aiuto della sua assistente sociale interpretata da Asia Argento e a un certo punto però cosa succede? Che serial killer torna a minacciarla e lei insieme al figlio della coppia di cui ha involontariamente causato la morte dovrà sfuggire a questo pazzoide e scoprire le identità insomma classiche cose appunto da thriller in questo caso appunto con tinte horror. Ora, se avete avuto modo di vedere qualche recensione di leggere o vedere qualche recensione dedicata a questo film è se si dividono in due gruppi principali chi dice brutto in linea col periodo buio di Dario Argento e chi ne parla discretamente bene quasi mosso forse più da un senso di nostalgia per il Dario Argento che fu di affezione piuttosto che per effettive qualità del film. Io sono andato a vedere il giorno di uscita col buon Paolo Innocenti che saluto e in descrizione vi metto il link alla sua videorecensione in cui compaio anch'io nei primi minuti perché il buon Paolo Innocenti quando va a vedere film con altri youtuber fa appunto questo inizio di video in cui ne parliamo se ne parla assieme l'avevamo già fatto con Huntless Spirito Insaziabile devo ancora finire di vedere il video ma tanto ne abbiamo parlato dopo la visione quindi so esattamente cosa ne pensa appunto sono andato a vedere e e allora è complicato è complicato parlare di questo film perché se parliamo di sceneggiatura questo film c'è poco da dire è un disastro su tutta la linea non è che c'è molto da dire è pieno di cose che non tornano forzature dinamiche che fanno ridere i polli i dialoghi madonna i dialoghi sto morendo da ridere solo a parlarne solo a pensarci mamma mia mamma mia mamma mia il punto qual è non è una novità nei film di Dario Argento e non nel senso degli ultimi brutti di Dario Argento le sceneggiature di Dario Argento hanno sempre fatto schifo sempre profondo rosso ok tutti i capolavori la musica dei Goblin quanto è bello sangue il pupazzetto gne 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 burattino avete presente chi l'ha visto lo sa è la scena dell'ascensore e Pinco Palle l'assassino e tutto quanto ok profondo rosso inizia con una attrice notissima di teatro che viene accoppata nel più bel teatro d'Italia comunque uno dei più bei teatri d'Italia così viene scritto non mi ricordo sarà la scala comunque insomma in un teatro bellissimo qual è il punto è che lei muore mentre si sta truccando nel nel bagno del del teatro ora il bagno del più bel teatro d'Italia è una roba sporca che sembra il bagno della peggior metropolitana appunto di Milano e dici come è possibile il più bel teatro d'Italia c'è questo cesso orribile qui il secondo omicidio dove c'è dove c'è il protagonista in strada sente l'urlo ed è l'unico che va a vedere cosa succede c'è l'intero complesso edificio non c'è una luce che si accende la polizia arriva dopo 120 minuti che non l'ha chiamata nessuno cioè non ha senso una pletora di minchiate suspira tu entri in quella scuola illuminata in quel modo e pensi ma chi cazzo voglia di entrare in sta scuola ci sono morti a destra manca la polizia si arriva lì e adesso indagheremo perché nessuno fa qualcosa vabbè in suspira c'è una strega che comanda su tutto magari fa un incantesimo e però ditelo perché così il modo in cui viene sconfitta la strega in suspira è delle più grandi puttanate della storia del cinema è ok ma sempre sempre cioè la parte thriller dei thriller di Dario Argento è sempre stata terribile per questo che tutti se lo ricordano di più come regista horror perché a fare la differenza nei suoi film era sempre tutta la messa in scena questo modo di rappresentare spesso anche espressionista con queste luci improponibili qualcuno suspiri appunto le colonne sonore no i goblin in profondo rosso papara papapa cioè se ci ricordiamo tutti quella con una sonore perché è una figata di quelle enormi eccetera cioè queste cose i film belli di Dario Argento erano film in cui la regia e la messa in scena di Dario Argento riuscivano a compensare delle sceneggiature scadenti e questo è un miracolo in un film come i thriller perché i thriller i gialli dovrebbero essere i film in cui la sceneggiatura è più ferrea cioè più di ferrea o più a prova di bomba perché tu devi poter far combaciare tutti i pezzi quando alla fine c'è la risoluzione finale tu devi fare in modo che tutto quello che viene detto abbia senso perché se ti accoggi di una sola cosa fuori posto tutta la struttura crolla miseramente se c'è un genere in cui è fondamentale la sceneggiatura è il thriller Dario Argento è forse l'unica o comunque una delle pochissime persone che è riuscito a fare dei vei thriller senza l'apporto di una buona sceneggiatura o di realtà appunto tutti si ricordano più come horror quindi forse non c'è realmente riuscito diciamo che ha avuto altri aspetti che hanno distratto dal fatto che il thriller fosse fatto male ecco ultima cosa la premessa del gatto a nove code esiste un nuovo cromosoma rarissimo e quindi sono delle persone che hanno il cromosoma XYZ che anche qui credo che con qualunque spattura di genetica muoia solo a sentire sta puttanata e in più a quanto pare chi ha questo gruppo genetico rarissimo è un potenziale serial killer un'idea degna di certi tedeschi degli anni 40 che tu sia geneticamente improntato ad essere stronzo però va bene non a caso hanno dei meno riusciti del periodo di Dario Argento però comunque diamoci conto di che mentalità è aiuto e quindi ok quindi alla fin fine il fatto che in questo film la sceneggiatura fa ciacqua da tutte le parti dici va bene lo è sempre stato ciò che conta qui è la messa in scena che negli ultimi film di Dario Argento proprio sparita per sempre com'è qui eh ora gli standard precedenti erano molto bassi ma effettivamente della produzione dell'idea argentiana post 2000 questo è quello che finalmente ha un'idea registica ci sono ci sono idee di montaggio e di regia magari non incredibilmente innovative però carine sembra effettivamente di vedere il Dario Argento vecchio stampo in certi punti sembra di vedere il Dario Argento appunto di trauma e non ho sonno quindi film magari non riuscitissimi ma dove di tanto dicevi ah qui è venuta l'idea interessante per questo prima ho fatto la suddivisione questo film dove lo collocherei idealmente come qualità come periodo cronologico ovviamente va messo nel post 2000 però a livello di stile secondo me siamo tornati un po' indietro e c'è effettivamente un po' di un po' dell'argento vecchio stile che ci piace tanto e capisco chi ha fatto delle recensioni comunque sostanzialmente positive che gli davano almeno la sufficienza perché effettivamente dopo i disastri dell'ultimo periodo sono finalmente tornato a respirare un po' del Dario Argento che piace a me ma penso anche alla parte finale tutta ambientata in un bosco in cui si cerca effettivamente di tornare a quell'idea di favola nera che ogni tanto Dario Argento metteva nei suoi film ho citato Suspiria ma che ha visto Fenomena ragazzi quella è veramente una fiaba più che un thriller slash horror d'altro canto si dice che le fiabe sono una delle cose più horror che esista e Dario Argento l'aveva capito bene e quindi ben venga meno male anche l'assassino alla fine lo trovano in una sorta in un edificio semiabbandonato comunque poco frequentato capirete guardando il film e questo lo fa lo fa sembrare idealmente anche se la cosa non viene mai detta il classico orco troll delle fiabe che vive nella capanna nella grotta abbandonata c'è quest'idea appunto di struttura da fiaba però ambientata nella nostra contemporaneità che è molto carina poi anche il fatto appunto che la protagonista sia cieca e quindi c'è il concetto dell'occhio dello sguardo che in Dario Argento è sempre stato presente come ho detto nei suoi thriller la risoluzione derivava dall'aver visto qualcosa non dall'aver dedotto qualcosa in un caso qui ci sono alcune delle trovate migliori di Dario Argento il fatto di far diventare a volte lo schermo nero per appunto metterti nei panni appunto della protagonista il fatto che a volte si corrano in corridoi magari con le scale buie e tu vedi appunto più o meno quanto lei sei quasi nella sua stessa situazione ma anche all'inizio questo non lo considero spoiler perché ovviamente dopo l'incidente lei in ospedale quando si accorge di essere cieca ci sono un paio di momenti che sembrano fatti dalla soggettiva di lei ma una soggettiva finta perché lei essendo cieca non sta realmente vedendo quello che vediamo noi quindi appunto vedi un Dario Argento che ha le sue idee effettivamente c'è da dire però appunto che queste idee cozzano male appunto con quello che dicevo prima della sceneggiatura che numero uno in certi punti è veramente molto scema molto 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 e inoltre per quanto carine queste cose non è che ti salvano il film cioè le trovate che Dario Argento sfoggiava nei suoi primi film erano molto più belle molto più impattanti e lì sì che te ne fottevi della sceneggiatura di merda qui qui è un continuo su e giù c'è il momento in cui dici ah va che bella questa trovata al momento in cui pensi ma vaffanculo ma che puttarata è questa perché veramente non si riesce a trovare un equilibrio perfetto ah poi c'è come sempre Dario Argento qui mette degli animali animali fortunatamente non in CGI come la civetta o l'amantide del suo Dracula si è rodato il cielo si è reso conto Argento che usare la CGI era una pessima idea dopo il disastro fatto con Dracula e quindi qui si torna agli effetti tangibili curati da Giorgio Stivaletti uno dei più grandi effettisti del panorama italiano che purtroppo non ha più modo di lavorare essendo specializzato nell'horror che noi qui non facciamo più tanto mi immagino Dario Argento che arriva lì gli chiede di fare gli effetti e lui si sta piamo la champagne e infatti gli effetti che vediamo sono bellissimi il sangue non ce n'è tantissimo ma quando c'è lascia lascia il segno quindi da quel punto di vista sicuramente Dario Argento ce l'ha fatta però appunto è un film che continua a oscillare in questa china e qui va molto la sensibilità c'è chi riuscirà a passare sopra e comunque a volere un po' di bene a questo film io stesso non riesco a disprezzarlo del tutto chi come il buon Paolo dirà no niente non ce la faccio è troppo stupido un grosso grosso problema di questo film però si riscontra indubbiamente nella recitazione guardiamoci in faccia Dario Argento non è mai stato un direttore di attori molto bravo o aveva culo e c'aveva lì l'attore preso particolarmente bene oppure insomma non ho visto già ma mi dicono che lì Adrian Brody non è che sia che stiamo parlando di Adrian Brody che va bene non fu pagato problemi di produzione allucinanti quindi o comunque non so guardate il suo Dracula lì c'è Rudger Hauer Rudger Hauer che fava Nelsing pensi figata delle figate e lo guardi e fai ok quindi insomma non è mai stato un grande direttore di attori e qui la cosa si nota o meglio finché si tratta di corporalità dell'attore in realtà funziona la Pastorelli è proprio l'esempio rampante nel momento in cui deve fare la cieca quella che non vede la persona fragile che si trova in una condizione a lei nuova che non sai veramente come andrà avanti che ti fa tanta pena scusate che ti fa tanta pena per me è fenomenale è veramente molto molto brava non piace a tutti la Pastorelli è una di quelle attrici che ha bisogno di un regista che la sappia dirigere e qui appunto casca l'asino perché appunto ripeto nelle movenze perfette nella mimica del corpo quando deve parlare il suo avere questa parlata così proprio da burina la romana romanaccia quasi stona molto in gigrobora perfetta qui qui no cioè ripeto la Pastorelli è una di quegli attrici che ha bisogno di un regista che la sappia dirigere dirigere bene purtroppo Argento ripeto è bravo in tante cose ma non o meglio lo era più o meno adesso sta tornando ma non lo è in questo e quindi ogni volta che apre bocca è tremenda ma tutti qui l'Asia Argento ah c'è da dire questo spesso quando sentivo l'Asia Argento parlare in altri film mi veniva da pensare sputa nel senso che sembrava sempre che avesse qualcosa in gola mi ricordo il trailer della terza madre devo trovare la madre delle lacrime sembra sempre che abbia ingoiato un sas che stia cercando di sputarlo fuori dalla gola perché ha la gola intasata qui non si sente più quella impressione lì non l'ho avuta così tanto per quanto anche qui non è che brilli di recitazione purtroppo ma e poi ripeto in generale anche tutti gli altri il bambino il bambino allora già far recitare bene i bambini non è facile perché sono bambini non hanno quell'esperienza di grandi attori che hanno altri i grandi attori bambini spesso e volentieri avevano anche grandi registi alle spalle questo appunto con i grandi registi da recente lo è ma come ho già detto tipo tre volte non nel dirigere gli attori quindi hai un bambino diretto da uno che non è un grande direttore d'attori e che in più un bambino cinese e che quindi parla con questo accento c'è un momento in cui lui dovrebbe essere tristissimo dice no no non è vero non è vero deve essere una scena drammatica lì io e Paolo morivamo da ridere e quindi niente la recitazione ammazza un po' cioè ovviamente questo finché non abbiamo visto giù la manopola del volume senti lo buto meglio la corona sonora meglio sentirla perché ci sta bene non siamo ai livelli dei goblin però ci sta è molto carina un bel accompagnamento i dialoghi invece no i dialoghi proprio no tra come sono scritti e recitazione in sé inoltre il fatto che sia un film molto debitore del vecchio Dario Argento che sia un film da altri tempi è sia un pregio sia un difetto è un pregio perché appunto dopo gli ultimi disastri Dario Argento vedi questo e fai oh oh una ventata d'aria fresca poi siamo in un periodo che è molto nostalgico e quindi un film che ha il sapore di vecchio stampo riesce ad attecchire bene l'unico problema è che qui non è un'operazione nostalgia o un omaggio a quel cinema è semplicemente Dario Argento che è veramente rimasto bloccato a quell'idea di cinema degli anni 70-80 sembra di vedere un film di quel periodo semplicemente girato adesso con tutti i pro e tutti i contro che ne conseguono e quindi anche lì continuo a oscillare ci sono dei punti qui dico oh che bello questo cinema vecchio stampo però dall'altro lato in più di un'occasione c'era una parte di me che diceva si ho capito però sei vecchio stampo perché nel bene o nel male ha fatto il suo tempo quindi si potrebbe avere un film più contemporaneo capite bene che c'è un c'è un problema in questo senso insomma uno di quei film che per me è difficile da inquadrare e forse è un po' in questo che sta il suo fascino perché sicuramente è piacevole vedere un film bello e capire cosa c'è di bello è meno piacevole vedere un film brutto ma almeno puoi cercare di argomentare cosa non ti è piaciuto ma effettivamente vedere questi film in cui sì questo è bello sì questo no e vedere poi come le varie sensibilità delle varie persone collimano è interessante diciamo che se lo sento alloggiato troppo mi viene da dire micchia stai ignorando evidenti i difetti se lo sento però troppo distrutto da altri mi viene da dire sì per carità le sue porcherie ce le ha però dai ha anche i suoi lati positivi quindi appunto è interessante in questo senso parlarne appunto mi ricorda un po' Trauma e non ho sonno dove ci sono i momenti in cui dicevo oh bello e altri in cui dicevo qui non va gran che bene quindi appunto è interessante in questo senso ecco mettiamola così il cartaio e Dracula vi consiglierei di guardarli ripeto solo in due casi uno siete particolarmente arrabbiati con voi stessi e volete farvi del male oppure due in ottica trash magari con degli amici che magari vi fate delle risate vedendo le porcherie che ci sono o tre per completismo volete vedere tutto Dario Argento e quindi vi toccano pure questi prima o poi anch'io sapendo anche adesso che sono in stream illegale dovrò farmi dovrò magari collimare le mie lacune che culo eh visto che le mie lacune sono quasi tutta la parte peggiore di Dario Argento comunque staremo a vedere dai una chance dategliela al peggio avrete visto un film brutto ma almeno avrete supportato un po' le sale che ne ha sempre bisogno soprattutto in questo periodo è un po' comunque uno che ok ultimamente non è sto granché ma a cui il nostro cinema deve comunque tanto e quindi dai riconosciamogli almeno questo detto questo quindi chiudo qui la parte senza spoiler adesso ci sono un paio di cosettine di cui discutere nel nel dettaglio grazie a chi mi ha seguito fin qua se il film cioè si se il film se il video film vi è piaciuto mettete mi piace scrivetevi condividete tornate quando avrete visto il film mentre invece se il film lo avete visto o ve ne fregate degli spoiler 5 4 3 2 1 spoiler allora che dire ecco parliamo del primo omicidio che ci viene mostrato che è quello appunto della terza prostituta che ci fa appunto capire poi com'è l'andazzo no? l'omicidio cioè in sé è carino perché c'è veramente un sacco di sangue e ok già lì c'è una delle prime minchiate del film ovvero questa viene sgozzata cosa fa chiunque venga sgotato proprio di riflesso fa così oh questa si tocca la bocca si tocca il petto si tocca la bocca credino ma metti qui le mani ovviamente il tutto è per far vedere ancora più sangue eccetera però comunque diciamo che il gore compensa un po' la troiata del dovrei fare così per essere eccetera vabbè e quindi ok però devo dire il modo in cui è diretto non è male però secondo me dal reggente ha saputo fare di meglio semplicemente la tipa viene presa alle mani dentro la siepe e viene sgozzata ok dal reggente ha saputo orchestrare omicidi molto più belli tipo quelli in profondo rosso che per quanto a volte assurdi sono veramente al bacio a livello di regia montaggio e tutto però c'è comunque una bella colonna sonora ecco diciamolo i poliziotti qui non sono le più grandi cime nella storia del cinema ma sono sicuramente molto meno scemi rispetto ai mega deficienti del cartaio in cui chiamo dall'esperto di poker contro un computer vabbè chi ha visto il cartaio sa e chi non l'ha visto è meglio che non sappia poi abbiamo appunto Diana che ha l'incidente e c'è la parte che è anche interessante appunto in cui lei deve adattarsi alla sua alla sua nuova vita c'è la domestica che sostanzialmente le dice quello che ti meriti perché fai la la prostituta e lei la manda a cagare un po' anche giustamente e poi c'è appunto arriva l'assistente sociale cioè Asia Argento le fa fare amicizia con Nerea che diventerà il suo il suo cane guida non crede un sex macchino del film ma ci arriviamo alla fine e ok e poi appunto c'è la questione del bambino che si chiama adesso mi sfugge il nome un attimo che ricontrollo Cin lei appunto va a regalargli un gioco una playstation portatile e dice è colpa mia se i tuoi sono morti ma anch'io sono una vittima perché sono cieca e poi non è che stavo guidando in maniera sconsiderata c'era uno che cercava di uccidermi tra l'altro bello il fatto che quando viene commesso il primo omicidio il furgone è nero e poi lui se lo vernicia cioè dopo ogni omicidio lui se lo vernicia perché sa che andranno a cercare un furgone di quel colore e tra l'altro bello al certo punto i poliziotti quando dicono ah il furgone ha cambiato colore quindi forse se l'è fatto riverniciare se andiamo a controllare in giro magari scopriamo chi è stato e uno dice eh speriamo perché se invece se lo fosse riverniciato da solo non avremmo alcuna pista e quindi già questo ti fa capire perché non verrà approfondita questa cosa cioè perché non fanno vedere loro che indagano su chi ha verniciato il furgone perché l'abbiamo visto che il kill se lo stava riverniciando da solo quindi già sappiamo che quella pista non porterà a nulla questo è un buon modo di gestire appunto il lato trailer sia ogni tanto che Dario Argento ce la fa e anche qui si torna appunto sulla questione del vedere no Diana ha bisogno che qualcuno vicino a lei indichi sempre di che colore è il furgone finché sappia che non è lo stesso dell'altra volta ma allo stesso tempo noi sappiamo che il killer lo vernicia quindi potrebbe anche darsi che vedere il furgone sia inutile sono quei discorsi sullo sguardo che appunto a me piacciono molto ma tornando alla questione di Cine lei appunto gli regala questa cosa lui la butta a terra perché adesso in un orfanotrofio comunque in un centro di affidamento e dice votene tutta colpa tua ti odio la recitazione vabbè lì è stato il primo momento in cui sono scoppiato a ridere in una scena teoricamente drammatica ma soprattutto lei se ne va via triste tre secondi dopo Cine sembra perdonarla forse vederla triste gli ha fatto capire che davvero non è colpa sua ha capito che sarei stato uno stronzo ok ma comunque no cioè nel senso non è molto credibile tra l'altro poi Cine cerca di riprendersi la propria playstation portatile che i bambini gli hanno preso Diana per non si è capito bene quale motivo è tornata indietro e gli dice basta o vi non mi ricordo si dice tipo vi picchio o vi faccio mordere da Diana e lì ho pensato ok sono strozzi ma sono bambini cioè quello che ha appena detto è illegale è una visione perché diciamo perché dico che è un film fermo agli anni 70 perché negli anni 70 sta cosa sarebbe stata permessa ma il giorno d'oggi e per fortuna aggiungerei comunque sia ok quindi ci sono poi tra l'altro Cine va da lei e praticamente vuole stare da lei non vuole stare nell'orfanotrofio insomma quel che è perché è un posto brutto e cattivo almeno così dice a noi non viene mostrato e appunto praticamente c'è Diana poi che lo deve tenere nascosto perché se no i servizi sociali lo vengono a prendere anche lei passa dei guai eccetera eccetera se anche lì lei all'inizio chiama l'orfanotrofio perché devono venire a prenderlo poi cambia idea ci sono proprio questi cambi di idea repentini che non hanno granché senso e questo da un lato appunto non sarebbe un problema perché Dario Argento è sempre puntato ad altro però in quella parte di film vuole proprio essere introspettiva e quindi quando non è scritta bene te ne accorgi e pesa anche sulla resa finale del tutto con poi gli assistenti sociali che vanno e gliele dicono c'è il bambino lei nega e dice ok qualora lo vedesse tenga ci chiami questo è il nostro biglietto da visita ma è cieca come fa a leggere e uno può dire beh magari è un biglietto col braille no perché alcuni ce li hanno ma non ce l'ha il braille si vede non ha il rilievo braille e bastava risolverla con qui c'è il nostro biglietto mi rendo conto se se dovesse sapere qualcosa per favore ci chiami so che non ci vedo non so si faccia leggere il numero da qualcuno anche se sono un passante per strada oppure glielo dettiamo non so glielo detti ma insomma fa ridere quel momento lì oppure trattalo come una gag nera coloro che le fanno tenga ci chiami e lei grazie come lo leggo cioè che glielo faccia notare che stanno che hanno appena fatto una cosa indelicata da far schifo però invece così sembra solo stupida il film comunque ok stanno un po' assieme poi a un certo punto devono scappare vanno a casa prima di Qin e poi vanno a casa dell'assistente sociale che vive nel bosco come la classica qui inizia la parte favolistica magari la vecchietta che ti accoglie che comunque Asia Argento non è più giovanissima e ok e tra l'altro caro Qin io ti voglio bene ma in realtà no ti odio perché a un certo punto sentendo lì Diana e appunto l'Asia Argento che stanno parlando del fatto che Diana deve far venire lì gli assistenti sociali perché Qin è in grave pericolo Diana dice va bene li chiamo però domani voglio che aiuto voglio parlarne prima con lui Qin che cosa fa? chiama gli assistenti sociali che nel frattempo sono stati uccisi dal killer e tra l'altro quello è uno dei primi due omicidi in cui la macchina sta venendo addosso e anziché spostarsi loro stanno lì nooo sta arrivando se io che sta arrivando potrei spostarmi no resto qui nooo e fa abbastanza ridere insomma riflessi proprio zero qui e nulla e appunto risponde il killer che appunto li trova uccide Asia Argento tra l'altro in questo caso strangolandola e e di fatto Qin è responsabile della morte di quella donna bene così tra l'altro proprio davanti al cadavere di lei Diana gli dice guarda Qin tua madre è morta perché inizialmente è morto solo il padre la madre è in coma Diana ha saputo che la madre è morta ma non ha avuto il coraggio di dirglielo glielo dice in quel momento e quindi oh Qin mi dispiace mi dispiace tanto per tua madre è bello vedere questi qui piangere per la morta con di fianco il cadavere di un'altra morta oh Qin la tua madre è morta è terribile lo so è terribile è davvero tragedia una morte oh guarda qui di fianco il giudicato oh ma chi se ne fotte oh mi dispiace tanto per tua madre senti Asia potrà decomporti dall'altra parte che qua non e qua stiamo cercando di piangere per qualcuno che merita davvero le nostre lacrime cioè dai povera rispetto per i morti proprio zero cioè almeno per alcuni morti c'è tutta la fuga nel bosco dove a un certo punto finiscono in questo fiume pieno di serpenti che li mordono e non erano serpenti velenosi a quanto pare ok non tutti i serpenti sono velenosi mi pare però insomma dire qualcosa boh vengono morsi e basta scappano via a un certo punto arrivano dove c'è tipo lì quei capannoni con dentro i contatti per l'energia della città e li trovano il killer che si scopre essere uno che Diana aveva insultato a inizio fin cioè praticamente c'era questo cliente a cui lui aveva detto senti fatti una doccia che puzzi e questa cosa appunto l'aveva fatto sclerare ora come messa in scena nel film è un po' stupida volendo provare a fare un po' di sovranalisi psicologica questo è un uomo con dei complessi e quindi si può capire che probabilmente lui è stato cliente anche delle prostitute precedenti queste ultime anche lì l'avevano insultato magari sempre per il motivo dell'odore o chi lo sa e lui era impazzito e appunto aveva cercato di ucciderle e tra l'altro quanto vorrei questo personaggio in Twilight dove tutti i personaggi annusano qualcuno e gli dicono oh ma guarda che puzzi veramente da schifo partirebbe una strage che veramente mi scalderebbe il cuore in quella saga comunque a parte questo qui però c'è un problema il volto dell'assassino viene inquadrato nel momento in cui Cina gli telefona ora non capiamo subito che lui perché il personaggio l'avevamo visto per un secondo e sembrava una cosa così una scena di vita quotidiana giusto per farci vedere che Diana è una prostituta che non è che te la dà così a prescindere vuole un minimo di decenza da parte dei suoi clienti giusto per farci di fare un pochino per lei anche magari chi non è molto a favore della prostituzione e ok il problema è che non sarebbe stato più bello non mostrare il viso del killer finché Diana a un certo punto non avesse fatto oh mio dio conosco questa puzza e quindi appunto l'avesse riconosciuto prima che noi lo vedessimo in faccia mentre invece no è il killer che dice ciao Diana mi riconosci sono quello che puzza ma no ma che rivelazione anticlimatica del killer è questa dai poi appunto li lega e si scopre che lui ha catturato Nerea la canna guida di appunto di Diana tra l'altro si questo è un film pieno di attori cani in cui gli attori migliori sono dei cani letteralmente sono dei cani attori e cosa succede che siccome abbiamo visto che Nerea era un po' aggressiva c'è c'è appunto Diana che dice Nerea attacca sbanalo e Nerea lo sbanava lo sgozza c'è lui che muore peggio delle sue vittime e se da un lato dici oh bene lo stronzo se l'hai meritato dall'altro lato mi fa ridere che Nerea venga poi lasciata tranquillamente da Diana cioè questo cane comunque ha ammazzato un uomo ha assaggiato il sangue umano non dovrebbero fare degli esami qualcosa perché un cane è potenzialmente pericoloso per carità è stata la padrona di lì di ammazzarlo per comunque legittima difesa però insomma mi sembra una cosa un po' buttata lì e alla fine Qin viene accolto tipo dagli zii dalla cugina che lo porteranno a vivere felice e contento in Cina e visto gli avvenimenti degli ultimi anni mostrano un film in cui dici sì che bello vado in Cina e dove è tutto bello soprattutto i mercatini con il pipistrello chissà che cosa insomma un film in questo caso non proprio nel momento migliore e poi alla fine c'è la scena toccante però rovinata un po' appunto dal fatto che Argento non riesca a far recitare la pastorella a dovere in cui Diana accarezza Nerea gli dice Nerea ora sei l'unica amica che mi è rimasta perché Cina appunto se n'è andato Asia Argento è morta ha mandato a fanculo la domestica ora più che altro restano solo i clienti sappiamo che lei comunque riesce a lavorare lo stesso anzi c'è c'è uno dei suoi clienti che lei gli fa ma non ti faccio non ti dà fastidio e lui che è un uomo grasso e bruttare le dice guarda ora sei ancora meglio non puoi vedere quanto sono brutto mentre tu sei stupenda non so se trovarlo tenero o patetico inquietante mi sa più l'ultima e piccola parentesi di quando lei deve imparare ad andare in giro c'è Asia Argento che le fa vedi adesso i semafori c'hanno il pulsante se tu premi diventa verde da rosso passa a verde istantaneamente per permetterti di passare e tu senti il suono che ti fa capire quanto tempo hai per attraversare le stesse pedonali io tutti i semafori che ho provato a premere col pulsante anche solo per far arrivare prima il rosso quando avevo fretta ci ha sempre messo almeno un minuto a diventare verde quindi va delle più grandi bugie della storia d'Italia il pulsante che se lo premi diventa verde veramente va cagare una delle più grandi truffe legalizzate d'Italia e detto questo direi che posso chiudere qui il video le cose importanti da dire le ho dette e quindi ringrazio di nuovo per avermi seguito anche in questa parte spoiler come dicevo prima se vi è piaciuto anche qua mettete mi piace scrivetevi condividete commentate e ci vedremo per l'appunto ad un prossimo video ciao ciao ragazzi